Come vive un grande intellettuale, un grande artista una crisi? Quindi ho pensato di raccontare lui e raccontando lui di mostrare le dimensioni, la qualità di questa crisi e come si possa reagire, uscire dalla crisi stessa. Facendo in questo modo, cioè prendendo Passolini come protagonista dell'opera, ho fatto ciò che faccio spesso. Al modo dei grandi tragici greci, Eschilo, Sofocle ed Euripide, i quali partivano per raccontare la visione del mondo che li possedeva, per raccontare le soluzioni intellettuali e artistiche dei problemi del loro tempo, partivano sempre da qualcosa di conosciuto, di condiviso dai probabili spettatori delle loro opere. Quando mettono in scena le vicende di Eripo o di Agamennone o di Ecuba o di Aiace, mettono in scena delle storie che sono conosciute dagli spettatori. I spettatori sanno chi è Eripo, Agamennone o altri e allora si parte da una base di comune conoscenza e condivisione e su questa base, il tragico opera una serie di pensamenti, di ripensamenti, di ricostruzioni, di invenzioni. Quindi si opera criticamente sulla realtà, ma su una realtà condivisa, comune, su un'esperienza intellettuale condivisa dall'autore e dagli spettatori. Ecco perché Angelus Novus, questo film, racconta Passolini. Passolini è non soltanto un artista e un intellettuale, è anche una figura a suo modo mitica. Molti lo conoscono o credono di conoscerlo. Grazie a tutti. 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 L'ho presentato avventurosamente al ministero. E' passato e l'ho realizzato. Le soggettivo di questo film mi commuovono ancora? Le soggettive di questo film mi commuovono ancora? Per girare intorno a Piazza Vittorio va volando solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti a tutti. Tutti a tutti. Tutti a tutti. Grazie 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 a tutti. Di diversi punti di vista nella ripresa televisiva e cinematografica significa un'arte audiovisiva religiosa, un'arte che presuppone e conferma l'esistenza di Dio. Perché solo Dio può vedere da diversi punti di vista. Si dice che la prospettiva è nata nel Rinascimento, ma non è esatto. Nel Rinascimento è nata la prospettiva umana, è nato l'individuo autonomo, così come lo conosciamo. Prima del Rinascimento, prima di Brunelleschi e Basaccio, nella rappresentazione di una scena c'erano diverse prospettive. Appunto perché in un mondo dominato dall'idea di divinità, essendo la divinità ubiqua, in cielo, in terra e in ogni luogo, la scena era ripresa da diversi punti di vista. Ma questo cosa implica? Implica che la maggior parte del cinema che si è fatto e si fa è dominato dall'idea di divinità. Anche il cinema più libero, più artistico, l'auli di bicicletta. Chi riprende? Padre e figlio che camminano da diversi punti di vista? Psyco. Vediamo una scena, Norman Baye cammina e noi lo osserviamo camminare in panoramica. E poi di seguito è montata una scena in cui vediamo ciò che lui vede e come lo vede. Due diversi punti di vista, alternanza nei punti di vista, idea implicita della divinità. Io ho cercato nella vita di costruire un cinema ateo, una televisione atea, una forma d'arte nella quale sia l'individuo, il singolo, a costruire un punto di vista superiore, evidentemente, al punto di vista del signor Rossi e di Fincopalla, ma un punto di vista umano. L'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono. Questo voleva dire protagora, l'uomo, non Dio. Torniamo alla logica di ripresa della messa in scena Vita Breve di Estimios. Mi sono messo al posto di uno spettatore, sempre quello, per tutte e sei le sere delle sei rappresentazioni. E ho ripreso sempre da quel punto di vista l'azione. Poi nel montaggio ho alternato campi più larghi, campi più stretti, a secondo della drammaturgia, a secondo... Ma sempre dal punto di vista dello stesso spettatore, uno spettatore. perché credo che questo metta lo spettatore del video Vita Breve di Estimios nella condizione di un individuo autonomo, singolo, che vede dal suo punto di vista e valuta, apprezza, giudica. Ecco, come dalla logica della ripresa si ricava la concezione artistica di un autore. In questo caso, un autore adeo, senza Dio, ma che non sente questo come una mancanza. No. Semmai sento la mancanza di Estimios. La proiezione di Angelo Snobus, nella saletta di Cinecittà. Il film era durato due anni, tra riprese, produzione, edizione, montaggio, che poi sono gli anni dall'85 all'87, gli anni del tumore al cervello di Estimios. Lui si era occupato delle musiche. Aveva scelto dei prani di Mozart. E Estimios suonava il pianoforte, ascoltava la musica. Degli Eterni preferiva Vivaldi, dei contemporanei, Bob Dylan. Per Angelo Snobus scelse Mozart. Anch'io ho scelto Mozart per lui. Un registratore messo al punto giusto, una cassetta, un gruppo di amici al cimitero di Bassano Romano, quattro parole. Questa gli sarebbe piaciuta. Mozart. Perché Estimios scelse Mozart per un film sulla crisi, sulla disperazione, sulla morte? Perché Mozart non è mai disperato. Piange e ride insieme. Io ho scelto Pasolini in quegli anni perché ero disperato. Vedevo Estimios morire. La proiezione di Angelo Snobus. Gli occhi di Estimios nel buio della saletta da 40 posti a Cinecittà. Tutto ad un fiato. Tutto a uno sguardo. Usciti alla luce eccessiva della sera nei viali di Cinecittà camminavamo lui e Dio. Il film è che girava ancora dentro. Lo lascio pensare, saliamo in auto e torniamo verso casa. La parte più bella, Estimios, il guardrail di notte. Il film comincia con Pasolini che gira in auto intorno a Piazza del Popolo a Roma. Gira, 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 gira come una mosca che non sa dove andare a morire. Grigio fuori, grigio dentro. Poi a un certo punto prende via del muro torto. Curve, gallerie, la tangenziale, il raccordo. Le luci insieme alle auto e alle case diventano sempre più rare. Tutto diventa sempre più nero. I paesi lontani, commoventi come Presepi. E a questo punto, tra il nero del cielo e il nero della terra, il guardrail. Una striscia di mille sfumature, di mille colori. Sfreccia, ci segue, ci accompagna. Non ci lascia più. Allora ho cercato di fare quello che Pasolini chiama cinema di poesia. Come io vedo il mondo. Una poesia. Il mondo visto attraverso gli occhi, i sogni di un individuo. E poi sono andato avanti. Sono voluti cinque anni. Ho aggiunto la soggettiva assoluta. Ho cercato la soggettiva assolutamente giustificata. Perché in Angelus Novus, o in l'area di biciclette, chi vede il personaggio, il personaggio? Per registrarli, a restituirli, ci vuole qualcun altro. Ci vuole una cinepresa, un operatore, uno scenografo. Ci vuole il circo, il cinema. Non è assolutamente giustificata la soggettiva assoluta. Ma si può costruire un cinema che non ha bisogno di niente altro che l'autore, che registra, che si registra, che racconta. E quindi ciò che vediamo non può essere più ricondotto a un artificio tecnico, a una finzione scenica. Nel 1990 scendendo dai sabatini, dove vivevamo, con Efei, una mattina mi ha raccontato un deciderio. di descrivere qualcosa che fosse giustificata, di andare oltre il cinema. e ho cominciato a parlarle di una possibilità di raccontare il mito di Narciso Ereco. Quella mattina è nata la bobbina dell'occhio ferito che Luiz poi ha mirabilmente spiegato, dispiegato in due paginette. oi moi, Narki 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 An 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 Grazie a tutti.